Sostenere immaterialmente coloro che annunciano il Vangelo perché possano dedicarsi totalmente al loro ministero. Sin dalle prime comunità cristiane ha testato il gesto della distribuzione delle elemosine, ma è dall'epoca di Carlo Magno e sono i popoli sassoni con la loro conversione a istituire il cosiddetto Denarius Sancti Petri, cioè l'obolo di San Pietro. Si celebra domani la giornata per la carità del Papa, occasione legata alla solennità di Santi Pietro e Paolo, che celebreremo venerdì prossimo 29 giugno. Ma la colletta è stata anticipata la domenica immediatamente precedente per legare il gesto della carità materiale anche alla preghiera della comunità che si riunisce attorno alla mensa domenicale. È l'occasione per sostenere direttamente le opere di misericordia del Papa, ma anche per stringersi attorno a Pietro, riconoscendo fiducia nel suo ministero universale, nonché il suo primato nell'esercizio della carità. C'è l'ospedale di Bangui, visitato personalmente da Papa Francesco, per avviare interventi urgenti, dotarlo di un generatore di corrente e sostenere le assunzioni di nuovi medici e reparti. Dall'Africa a Lesbo, a sostegno di un piccolo paese, Vrisa, come vedete raso al suolo durante il terremoto di un anno fa, la ricostruzione stenta di collare, allora l'obolo di Pietro interviene con sollecitudine. Infine un salto in India per il sostegno ai bambini più poveri, i cosiddetti Dalit, non hanno da mangiare, muoiono nei primi anni di vita. Sono soltanto alcuni dei progetti in tutto il mondo, elenco completo e trasparenza finanziaria hanno anche tutte le modalità per donare, oltre che durante l'offertorio, andando domani a messa. Si trovano sul portale obolodisampietro.va, 78 milioni di dollari raccolti nella colletta dell'anno scorso, 8 in più, dunque in crescita, rispetto all'anno precedente. E questo anche in seguito ad alcune scelte visibili compiute negli ultimi anni, proprio tramite l'obolo di San Pietro, una per tutte. Francesco, lo ricorderete, ha voluto personalmente che fossero aperte in Vaticano docce e barberia per gli ultimi. E forse per un progetto che si vede funzionare concretamente, viene più spontaneo sentire la spinta a donare con generosità.